salve a tutti lo scopo di questo video è creare un case per la zx pen plus che normalmente viene venduta così utilizzeremo un case di un'espansione di memoria per zx81 che andremo a denudare della sua memoria nel mio caso ho usato un modulo di 16k non quello raro e costoso del 64k questa immagine solo di esempio per far vedere come è chiuso ai lati ed è aperto dietro quindi togliamo di mezzo il nostro case già tolto della sua memoria interna si presenta più o meno come questo aspetto l'adesivo l'ho messo io al lavoro ultimato per prima cosa purtroppo bisogna modificare la zx pen plus perché originariamente era fatta per entrare in questo case ma poi con l'aggiunta di una reale porta jossic non hanno mantenuto lo standard prima cosa fare rimane il bordo di sotto di un millimetro circa perché in principio era fatta in modo tale da poter entrare in queste due guide che si vedono quindi se non rimane il bordo non entra una volta rimane il bordo avremo un altro problema che questo bordo inferiore va a urtare contro il connettore quindi bisogna dare un ulteriore limata di un millimetro a questo bordo inferiore infatti si vede che c'è la limatura una volta superato quest'altro ostacolo ne avremo un altro ben più grande perché la porta jossic va ad urtare sul bordo posteriore quindi io ho fatto un incavo se lo tolgo si vede meglio un incavo dove si vede uno scalino creato apposta per far entrare perfettamente il lato del connettore jossic una volta inserito una volta creata la scala natura questo pezzo dobbiamo smontare perché dopo dobbiamo chiuderlo nel frattempo si può vedere che entra dentro e va a filo andando sul lato sinistro bisogna modificare la mascherina che è tutta chiusa lasciando lo spazio per la feritoia della memoria e della porta uscita della porta audio io ho già forato la parte e andrebbe appoggiata qua il buco di circa 12 mm 11 mm altrimenti i connettori non entrano quindi diciamo questa parte qui una volta fatta si può anche avvitare una volta avvitato la parte sinistra non ci resta altro che come da la parte destra che molto complicata rispetto alla sinistra il pezzo finale è questo qui che va montato senza la parte in metallo parte metallo va sotto va così quindi vanno fatti i buchi in modo molto molto preciso per le viti per bloccare la parte metallo portaggiosi che per fare sbucare il reset sul lato posteriore e lo andiamo a fissare una volta avvitato il tutto la scheda si presenta così molto stabile purtroppo dietro c'è questa fessura che originariamente il memopack la porta già è inutile tapparla può anche tornare inutile come presa d'aria questo era un memopack di 16k trasformato in z x pen plus grazie per aver visto questo video alla prossima